Dottoressa non so che mi ha preso, fino a ieri depressi iperteso, un po' tutti del resto viviamo così megalomani isterici e oggi respiro energie e magia, tutto di per sé in armonia se chiudi gli occhi e lasci parlare la melodia Ogni venerdì alle 15 sono su DJ TV Grazie